Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo della titolatrice di KDNlive Allora, KDNlive eccolo qui Sulla sezione contenitore del progetto facciamo aggiungi clip titolo E mettiamo un po' di testo Ok Lo mettiamo centrato E' centrato anche nel video Facciamo ok Questa è da un titolo che equivale a uno spezzone di un video Se faccio play con la barra aspettatrice Oh oh, il testo è fisso, sta fermo lì e sta centrale Allora, per avere il testo che si muove, di nuovo doppio clic nel titolo Dentro il contenitore del progetto Andiamo in animazione E premiamo su modifica inizio All'inizio lo mettiamo qua sotto E la fine la mettiamo qua sopra Appena fuori il video va messo sia l'inizio che la fine Ricordatevi, inizio sotto, fine sopra Risultato Eccolo qui Questo è un modo per fare i titoli di coda Allora avete visto come Partono dall'alto e vanno verso il basso Invece nei titoli di coda dei film Funzionano esattamente il contrario Quindi si fa modifica inizio Si mette su Modifica fine si mette giù Fa ok E questo magnifico testo di prova Eccolo qua, viene visto esattamente Come dei titoli di coda Poi volendo Andando nell'angolo in alto A sinistra E trascinando un po' Si può fare una sfumatura E anche nell'angolo in alto a destra In questo video Si fa un minimo di sfumatura Quindi il video non parte subito Hai appunto un minimo di sfumatura all'inizio E la branca è la fine Ok Poi sotto potrete metterci tutto l'audio che volete E fare un video più carino Adesso io sto solo parlando della titolatrice Cancelliamo questo E vediamo un altro tipo di titoli Aggiungi titoli Però questa volta metterò il titolo tutto In una sola riga Quindi adesso lo sposto Ok Testo di prova Ok Potrei mettere tutto il testo che mi va Allora mettiamo Che faccio così E faccio Qui Tutte le ore E faccio centrato E lo metto tutto in basso Ok Ho un video che sfora Sta lì Adesso usiamo l'animazione Inizio Lo mettiamo All'inizio C'era scritta testo Primo Primo Testo di prova E modifica fine Lo mettiamo di qua Ok Il risultato di questa nuova titolatrice Adesso non ricordo quale delle due Dove essere il secondo Sì eccolo qua Vediamo come funziona Si sta muovendo il testo Sembra molto simile A quello dei Telegiornali Dove c'è La scritta sotto Che passa Nel frattempo Che sta vedendo Un reportage Sotto ci sono Le anteprime Delle notizie Di tutti Del telegiornale Del giorno Ok Allora Questi sono i due modi Che si utilizzano di più Per fare Dei titoli Che si muovono Diciamo Per questo Video tutorial È tutto